Amici di Android Blog, sempre dallo stand Asus del Mobile World Congress 2006, questa volta in compagnia del top di gamma della gamma Zenfone presentata da Asus, parliamo del Zenfone 6, Zenfone 6 che prende il nome come gli altri due dalla diagonale del display. Infatti abbiamo un 6 pollici sempre HD di risoluzione. Andiamo a vedere comunque come nel frontale non cambia praticamente nulla rispetto ai terminali di fascia più bassa, cioè il 5 e il 4, mentre a livello posteriore siamo comunque con una griglia altoparlante molto più ampia rispetto alla precedenza. E la fotocamera che stavolta non è da 8 ma ben da 13 megapixel. Anche nel caso dello Zenfone 6 abbiamo l'integrazione con il low light mode che aumenta del 400% la luminosità della foto. Questo display tra l'altro può essere anche utilizzato con la modalità guanti, un display che comunque ad occhio sembra davvero molto bello nonostante la risoluzione non propriamente elevata. Il processore che muove questo Zenfone 6 come gli altri Zenfone è sempre un Atom, questa volta lo Z2580 con clock a 2 GHz. La RAM in questo caso è da 1 GB di RAM ma qua nella scheda video è anche segnato i 2 GB di RAM quindi non so se è presente in altri mercati, indagheremo su questa cosa. Lo storage invece è di 16 GB più lo slot di espansione per la micro SD. La fotocamera frontale invece è da 2 megapixel. La batteria integrata nella scocca sempre molto bella di questo Zenfone è da ben 3300 mAh. Questa volta però non è removibile. Andiamo a vedere un attimo le altre caratteristiche software. L'interfaccia è sempre la ZenUI, ci hanno detto qui Asus che si chiama così, che rispetto ci è piaciuta davvero tanto. Entriamo quindi nelle impostazioni del terminale. Intanto possiamo apprezzare la velocità di questo Atom nell'aprire i menu, non abbiamo un minimo ritardo. Android è sempre la versione 4.3 ma sulle specifiche tecniche è chiaramente detto che verrà aggiornato alla 4.4 KitKat. Torniamo indietro, andiamo a vedere lo storage e se ci confermano quanto scritto sulla scheda tecnica. Vediamo che sono 5.09, quindi questo è un modello probabilmente con 8 GB. Supponiamo una variazione in base ai mercati anche in questo caso. Le dimensioni, questa volta dobbiamo citarle, sono importanti per un 6 pollici, in quanto sono 166.9 x 84.3 x 5.5 mm di spessore. Vediamo ad esempio in confronto con LG G2 che comunque è un 5.2 pollici, la differenza di dimensioni è comunque importante. Nonostante la forma un po' stondata del posteriore si permette di tenere bene in mano questo terminale. Purtroppo i prezzi di questi Zenfone di tutta la gamma non sono ancora stati annunciati da Asus. Non mancheremo di informarvi prontamente appena sapremo qualcosa di più, magari nelle prossime ore. Anche per Zenfone 6, quindi abbiamo visto una veloce infarinata, come possiamo vedere anche le applicazioni implementate da Asus, come questa MyAsus, il power saver per ottimizzare la batteria, un setup wizard e il web storage ormai classico di Asus e quant'altro di classico, anche se integrato in un'interfaccia nuova. Quindi anche su Zenfone 6 abbiamo dato un'occhiata alle principali caratteristiche. Gamma Zenfone che comunque ci è piaciuta a livello di estetica, di design e di usabilità generale. Per questa preview è tutto per ora dal Mobile World Congress.